buongiorno inizio questa comunicazione informativa settimanale di aggiornamento lo faccio con il solito spirito costruttivo nella logica di fornire un'opportunità informativa a chi è interessato consiglio comunale informo che la prossima seduta consigliare si terrà lunedì 12 giugno 2023 alle ore 20 e 30 presso la sala consigliare piazza costituzione l'ordine del giorno è consultabile presso le baccheche site sul territorio oppure sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it saluto scuola venerdì è suonata l'ultima campanella per l'anno scolastico 2022 2023 la fine della scuola è sempre un momento significativo lui è stato anche per l'istituto comprensivo di quigliano l'augurio per tutti è di trascorrere in serenità il periodo estivo così da poter essere pronti al rientro di settembre l'amministrazione comunale invia il proprio saluto di fine anno scolastico alla direzione didattica a tutti gli alunni alle loro famiglie e docenti a tutto il personale della scuola che con coraggio e forza hanno attraversato e terminato l'anno scolastico tra le altre iniziative di questi giorni di cui l'amministrazione comunale ha preso parte venerdì ho colto l'occasione per ringraziare personalmente agli alpini che svolgono un lavoro essenziale per la nostra comunità il pedibus e così è stato consegnato agli alpini di vado ligero equiliano e dei bambini che partecipano a questa buona pratica un attestato di partecipazione un sentito grazie a loro e all'associazione degli alpini vado ligero equiliano per il servizio di volontariato reso alla nostra comunità estate ragazzi finisce la scuola inizia l'estate ragazzi 2023 il 15 giugno inizia il primo dei tanti eventi previsti nel calendario dedicato ai più giovani tutte le attività sono prenotazioni obbligatorie tranne spettacoli teatrali e le proiezioni cinematografiche le iscrizioni dovranno prevenire preferibilmente entro il 15 giugno all'indirizzo email servizi punto cittadino chiocciarocomune punto quigliano punto sv.it le quote dei corsi a pagamento dovranno essere pagate direttamente l'organizzatore presso la sede del corso per informazioni ufficio politica giovanile telefono 0 19 2511 martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 i calendari dell'evento e consultarvi anche sul sito istituzionale www.comune.quigliano.sv.it musac la prossima settimana che è davvero ricca di eventi a quigliano ospiterà anche per la presentazione del musac 2023 music e street art quigliano contest per essere informati sul programma che comprende con concerti spettacoli esibizioni è possibile venire presso venire giovedì 15 presso teatro nuovo di valleggia alle ore 21 viaggio di gaia sabato 17 giugno licea di riviera del belgo centro educazione ambientale organizza quigliano presso il parco di san pietro al carpignano lo spettacolo gioco il viaggio di gaia quando insieme cambieremo futuro da un futuro dove il mondo sembra ormai sull'orlo di una catastrofe una ragazza torna ai giorni no ai nostri giorni per capire cosa è andato storto in modo da cambiare il suo futuro e quello di noi riusciranno i pareri riusciranno i partecipanti ad aiutarla perché il futuro possiamo ancora decidere insieme enigmi da risolvere indizi da decifrare esperimenti in in cui cimentarsi età consigliata dai nove anni in su la squadra ideale è composta da sei giocatori la partecipazione gratuita a numero chiuso e la prenotazione obbligatoria all'indirizzo email info chiocciola cea riviera beigua punto it biblioteca da giovedì 15 giugno a sabato 12 agosto 2023 entrerà a vigore il seguente orario estivo per biblioteca civica a onzo martedì 9 12 16 19 mercoledì 16 19 giovedì 20 22 30 venerdì 16 19 sabato 9 12 30 il numero whatsapp o sms è 335 725 0941 prenotazione libri prolungare i prestiti ed ottenere informazioni infine ed uccina martedì 6 giugno mi sono recato in visita ed uccina comune sloveno vicino al confine italiano i rapporti con comune di ed uccina risalgono agli anni 70 ufficialmente gemellati nel 1974 in questo anno sono stati ricostruiti i contatti e rapporti tra le due comunità un primo incontro fra le nostre amministrazioni era venuto a marzo 2023 quando i rappresentanti di ai ducina fecero un bel una breve visita a quidiano ringrazio il sindaco da dei beocanini per l'invito e l'accoglienza molto positiva durante l'incontro di lavoro sono stati stabiliti piani concreti per rinnovo dell'amicizia in particolare attraverso la cooperazione in progetti europei comuni che daranno un grande contributo a tutti i cittadini attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche in particolare nel settore giovenile e sociale tuttora esiste dei ducino una via intitolata quidiano buon fine settimana a tutti e a tutte